Ecco, Vittorio Feltri, sull'editoriale Credo Venerdì, quindi due giorni fa, hai parlando delle donne, del femminismo, hai detto che vendersi può essere una forma di libertà. Vuoi spiegare bene che cosa vuol dire, come lo intendevi? Sì, un po'. Naturalmente. Il problema intanto non è Milano o Roma, perché l'umanità fa schifo dappertutto. Questo ci terei assolutamente. Dopodiché le persone adulte fanno del loro corpo quello che vogliono. Quando invece ci sono in bado delle ragazzine minorenni bisogna fare un ragionamento diverso. Però non vanno condannati solo coloro che le sfruttano in un certo modo. Ma anche le ragazzine non possono essere assolte, perché lo fanno per bramosia di denaro. Quindi hanno già degli impulsi che le inducono a commettere qualche cosa che sanno benissimo che non va fatto. Però lo fanno lo stesso, lo fanno per soldi. Quindi, attenzione, non bisogna sempre condannare a senso unico. Perché, come diceva l'attrice, secondo me in modo perfetto, se anche le ragazzine sono state educate male, sicuramente anche coloro che ne abusano non sono stati educati benissimo. Quindi non voglio dare la colpa alla società. Però la società è una catena. E questa catena, se non si spezza, si continuerà ad assistere a episodi come quelli che questa sera avete documentato, ma ce ne sono mille altri. Vendersi una forma di libertà, Candida. Direttore, non puoi far punire le ragazzine. Quelle vanno recuperate, aiutate. Ma cosa vuoi mandare in galera alle ragazzine? Ma che stai dicendo? Ma non farmi dire quello che non ho detto, Candida. Hai detto che vanno punite, hai usato la parola punite, l'hai detto tu. Non ho detto che vanno punite, ho detto che non vanno assolte. Ma che cazzo mi stai dicendo? Sta zitta e non mi interrompere. E quindi cosa bisogna fare le ragazzine? Sto dicendo che un uomo adulto o una donna adulta fanno del loro corpo quello che vogliono. Ho parlato di adulti. Le ragazzine che però si prostituiscono per bramosia di denaro, non è che vanno accarezzate in testa e dire brava, continua così. Questo è il punto. Ma è possibile che tu non sia il grado di fare un ragazzino? Ma è importante che non le vogliono punire o non assolvere le pensioni, non occuparli. Non capisco un cazzo. E non curarle, non recuperarle. Però non pensa a questo acquisto. Vittorio ha detto, hai capito cosa vuole dire Vittorio? Lui ha detto che lui non ne vuole punire. No, meno male, ma infatti il direttore è una persona più intelligente, non avrebbe mai potuto punire. Però neanche mettergli una pacca sulla schiena e dire brava, no? Assolutamente no. Vanno recuperate, vanno recuperate, rieducate, aiutate. Cioè bisogna spiegare che hanno ancora una possibilità di vivere una vita normale e bella. No, non insegno. Sì, ma tu non...